Nel 2017, quindi nell'anno scorso, il Veneto è stata la regione più colpita da effetti di instabilità, quindi effetti strani, forti, hanno colpito soprattutto il Veneto. Un triste primato che nella nostra regione rischia di bissare anche per l'anno in corso. E il numifragio di ieri pomeriggio a Fara di Soligo è l'ennesimo esempio di un clima profondamente cambiato, soprattutto negli ultimi anni. Cambiamenti climatici si sono sempre stati, ma così velocemente non si era mai verificato nella storia. La concentrazione delle precipitazioni, una volta erano più diluite, magari nel corso dell'anno era la stessa quantità. Fatto è che questi ultimi anni si concentra la stessa quantità, magari invece che un mese, addirittura in un giorno, se non in un'ora, due ore. Quindi capite che naturalmente questo crea grossi problemi. E poi gli effetti di instabilità. Per la prima volta nel Veneto abbiamo avuto, non le trombe d'aria a cui eravamo più o meno abituati, ma addirittura un tornado, quindi della stessa famiglia, ma molto più intenso. Tutti aspetti legati all'aumento delle temperature, con estati sempre più lunghe e inverni sempre più umidi. Abbiamo oltre 30 gradi, 34, 35, che durano quasi tutta l'estate, due, tre mesi. Temperature registrate all'ombra della capannina, sottolinea il meteorologo, quindi per certi versi differenti dalla situazione reale. Se mettiamo, come abbiamo messo, un termometro al sole, si raggiungono i 60 gradi. Quindi il disagio di una persona che è fuori sotto il sole, sono i disagi di 60 gradi, con ulteriore percezione per quanto riguarda l'umidità. Un clima a cui ci dobbiamo abituare, secondo il generale Giannicelli, con precipitazioni brevi e molto intense, ma anche molti giorni di sereno e temperature estive. Si annuncia un qualche giorno di bel tempo, quindi ancora sabato e domenica, inizialmente una velatura, comincia ad essere autunno, un po' di attività durante il pomeriggio, ma è sostanzialmente tempo stabile, quindi un buon fine settimana, ma potremmo dire che anche gran parte per ora della prossima settimana sarà all'insegna del tempo stabile, con temperature che riguadagneranno terreno, quindi arriveremo, se non ai 30 gradi, vicine ai 30 gradi.